e ben a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di giovedì 2008 che video non so come ringraziarvi perchè abbiamo raggiunto il trabordo dei 100 iscritti vi ringrazio tantissimo per il supporto che state dando a questo canale ora punterò diciamo ai 150 se ci arriveremmo grazie grazie spero che questo video dello speciale vi ringrazio per tutto il supporto che mi avete dato e allora come potete vedere siamo con Andrea e Filippo perché oggi andiamo a fare una challenge molto speciale andiamo a fare la indovina chest challenge praticamente noi giocheremo questa partita e se indovideremo l'arma che sarà nella chest noi potremo prendere l'arma se noi la indovideremo non la prenderemo questo diciamo è la challenge di oggi spero che vi piaccia questo speciale mi raccomando spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale e andiamo con lo speciale grandi raga è nulla raga eccoci qui pronti vado a raccomandare con questo indovidio chest challenge sta caricando speriamo che andrà bene e che andrà bene ma no allora raga in questa challenge direi di buttarci c'è in un posto dove c'è il lutto quindi raga allora brughiere voglio provare ad andare al parco ci state parco raga parco raga va bene parco piccoliamo la gente raga se poi raga ringrazio ancora per i 100 iscritti dai ragazzi speriamo che facciamo ulteriore nulla invito a seguire il canale di pippo che trovate che troverete in descrizione allora raga andiamo al parco dove 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 allora dove dove un paio di schiamma c'è spero che non creiamo armi siamo frattugi raga eh raga io comincio a dire una r poi che dita io dico r perché quello è più facile raga andrea non ti c'è che dice fucile d'assalto attenzione oh no no vado io vado io vado io vado io vado io c'è fucile d'assalto raga andiamo al trovato che hai trovato qualcosa pippo ok manco pippo raga fucile d'assalto pistola pistola voglio cassa del centario non ci credo che hai trovato raga andai trovato le augo non te lo puoi prendere raga oh che scadro non me lo fate prendere non possiamo prenderlo no dai raga no raga non ci credo no raga lo nascondo pure io lo nascondiamo non te lo puoi prendere ma come posso amare lo nascondiamo ok lo nascosto raga troppo difficile non ho armi in mannaio vuoi raga voi vedi un'arma raga andai a stare pronto e protetici da tutti bravo non ho armi voglio un'arma raga e pippo non abbiamo armi perfetto che speciale ragazzi dai schiamanda meglio dai una cassa una cassa che cosi la cassa che cosi che cosi torta che cosi da dimmi l'arma, da dimmi l'arma bro, non armi no la qua, oh l'ombrello, l'ombrello, non è un'arma però lo merito oh l'ombrello io già andavo a me ho io aprite c'è un medit raga ah raga c'è uno che lag ah no sta giocando no, aveva l'argo ci credo raga, se non prendermi della madonna non ci sono neanche bene raga sto spessata a giocare con l'ombrello però mi fa male grandi raga grandi 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 raga io non provo l'anno qua raga avete trovato, raga se trovate le ceste me le date a me raga per piacere mi servono come il pane le ceste raga oppure raga se avete delle armi se sono le stesse capite di dati me la mia se potete non lo posso prenderlo non lo posso prenderlo non lo posso prenderlo non lo posso prenderlo vabbè ma ieri niente Augo Basta ne ho trovate 3 di Augo per un po' mi hanno trovato i 3 di augo oggi basta 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 poi lo scar di pippo non ci ma comunque vi ringrazio un po' per i 100 iscritti uh vediamo pippo che è trovato qui io si io c'ho non ce l'ho detto a lavorare ogni cesto di lavoro è scomparso finita te vabbè non bravo coglioni non lo so ma no raga scar leggendare basta basta vabbè ma come non lo so ma come non lo so non lo so non lo so ma raga possiamo farcela sono 28 persone in vita oh oh sfruttare acqua cadere acqua uff raga questo non era nooo che è che mette sta giamperina nooo che è che mette sta giamperina no che è che mette sta giamperina infatti infatti è la madonna ma io sono un assalto e ne tengo pure 200 tipo il più io ne ho 200 però non so se mi servono se me ne vuoi dare pure più perchè a me l'unica arma pure 100 vanno bene non so qualcosa perchè l'unica arma che tengo è FAMOS ebbè voglio 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 spreddola un po' almeno almeno è una cosa fondamentale perchè non posso stare solo con FAMOS essere un bellino vai c'è gente c'è c'è un bellino 66 grande bro nooo nooo se ne ho dato quasi tutta la cosa se me ne è bro non porto questo però porto se esci devi porti i medici no però te lo porto però la medici è per te questo che ti porti raga raga ma una cosa ma se c'è un FAMOS verde per esempio uno col FAMOS verde per esempio non lo posso prendere o no? ah ok no giusto vabbè che me lo voglio fare hai ragione hai ragione lupo hai ragione raga mi sta salvando un bot in questa partita all'ombrellino raga 20 siamo 20 dai 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 raga raga sfrutturò un pò o gente con la domica non voglio 29 voglio voglio da me voglio da me hanno appena aperto il capo grande bro 29 uchi lato vamos vamos raga vamos no che è l'ultimo che non ho sbancato l'agenzia tommi condivide mannare voglio mannare aiuto che vuole scivini ora ho 50 di scudo e 80 di vita me lo faccio in medico ci stare a terra ok però se qualcosa non fanno ora ma 11 kg 12 kg 15 kg io ho due ragazzi ho due kg poi io ho 11 c'è due 11 a squadra io ho la granatuccia che forse possono servire a spammare poi siamo inizi speriamo che siamo inizi i fogli ma non ci stanno più cassa poi io mi sa che tengo fama se mi manca fama se non ci stanno più cassa anche iniziare che troviamo ragazzi ho trovato tutto hanno aperto per il capo che ha trovato ragazzi ho trovato una casa ma tipo dove stanno pippo vabbè non cassa o brosa hai sentire due classe si 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 ok bullo tra la coppa un ottimo piano andare sempre da oggi Provengo Osti Andrei Attento 19 Facciamelo cadere 19 blu a 1 Attento però Attento Oh Come No Mi hanno fatto cadere Voglio Mi hanno fatto cadere Ma io mi hanno fatto cadere Mannaggia Che cosa mi viene da voi Se non mi ha messato Non so Oh Grande Pippo Mamma mia Grande Pippo Hashtag di oggi Pippo della stante Raga Hashtag di oggi Hashtag di oggi Pippo della stante Oh Pippo Provarmi a messare Grande Andrei Attento bro Bro Attento che viene Bro Attento che viene Bro Attento che viene Vengo Veniamo Scamendo le mie aspe Bro Pippo Esiste un attimo Raga Rago Adesso Dietro Dietro Che lato Vaglio Vamos Vamos Siamo 11 Raga Vaglio Ma chi è questo Vaglio Ma sto scagnazzo Di me Oh Sto scagnazzo Bastardo Vaglio Sono un famas Vaglio Vi dato Di me Grazie Se ce l'avete Copritemi Raga No Raga Raga Che l'avete Io ho un famas Ehm Raga Pusci Pusci Bro Ma sai che rischioso Vaglio Vaglio Che è tutto Che stiamo vedendo Vaglio Vaglio Dami Cidino A me Morf Pas Vaglio 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 Io sto Portando I cidini Che è Bro Vaglio 3 Vaglio Non Pusci André Dov'è La jump Vaglio Dov'è La jump Raga Dai Raga Ce la possiamo fare Raga Cerco di arrivare Lui Cerco di arrivare Da Pus Sì 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 Raga Sì Dopo la speciale 50 iscritti Speciale 100 iscritti Un'altra Vittoria Reale Mamma mia Raga Mamma mia Raga Che partita Vaglio Accertate Vedo un attimo Vaglio Ho fatto 3 kg 3 kg 4 assi 3 kg Tu Pippo No Aspetta Sì Sì No Bro Quando è che l'hai fatto André E Pippo E Pippo Ah La 17 Bello Raga 17 bombe Mamma mia C'è CG Lo so Raga Hashtag Più Lo so Che partita Che partita Mamma mia Speciale Mamma mia Che partita Nulla Raga Stato Una sola Partita Ma una partita che è durata 1 tantissimo e 2 Perché è stata bellissima raga Raga ma come l'avete killata alla fine Perché io stavo jumpando in quel momento Vabbè raga Filippo l'ha fatto 55 E Andre l'ha killata Quindi Andre l'ha fatto la kill della vittoria GG per Andre Però raga hashtag Pippa è devastante Perché se non c'è la Pippa raga non so se l'abbiamo a fare vittoria E nulla raga Se iscrivete questo hashtag vi lascio un cuoricino Commentate con altri challenge di Fortnite da fare Vi ringrazio ancora per i 100 iscritti Obiettivo ora 150 raga so che ce la potremmo fare Nulla raga vi ringrazio ancora Lasciate un bel pollice se questo video vi è piaciuto E nulla raga ci vediamo al prossimo video Grazie ancora raga per i 100 iscritti Bella